E' appena terminata qui al Monzello, dalla sala stampa Giancarlo Besana, la conferenza stampa pre-partita di Mister Palladino in vista del Big Match, una partita che lo vede sicuramente protagonista, ovvero Juventus-Monza in programma domani alle ore 15 all'Allianz Stadium. Dunque Monza che si appresta a vivere la sua terza partita stagionale contro la Juventus e addirittura, non so se è un record, la seconda in dieci giorni all'Allianz Stadium di Torino. Sicuramente una partita, come già detto, che vedrà protagonista in primis il Mister Palladino che ha vissuto la Juventus a metà degli anni 2000, in conferenza stampa si è infatti soffermato dicendo che ha solo ricordi positivi del suo passato in bianconero. Si è detto molto eccitato e gasato comunque di poter affrontare la Juventus in così pochi giorni, poiché affrontare i grandi calciatori e i grandi club non può che arricchire il gruppo squadra e in generale l'ambiente Monza. Un aspetto importante di ciò che ha detto riguarda i rientri, direi a questo punto ufficiali, di Rovella e di Sensi che hanno già calcato il campo per qualche minuto. Io sono dell'idea che Rovella potrà partire dal primo minuto da titolare domani pomeriggio, mentre invece per Stefano Sensi gli verranno comunque concessi dei minuti. Ma nonostante questo e quindi con tutti questi rientri, con il fatto che ha trovato in questo lasso di tempo un nuovo ruolo anche a Matteo Pessina, più arretrato nel vecchio ruolo di Stefano Sensi. Ecco lui si è detto molto contento di avere tante alternative, non ne fa assolutamente un problema e anzi ha detto per un allenatore non può che essere un vantaggio avere molte più soluzioni che non averne praticamente. E' arrivata come anche giusto che sia la domanda riguardo il calciomercato, poiché ci stiamo avvicinando verso gli ultimi giorni, le ultime ore, le cosiddette ore del Condor. Lui ha detto che non si aspetta nulla di che e che anzi lui non dorme la notte per scegliere la formazione, mentre invece di mercato si deve occupare Adriano Gagliani e tutta quanta la società. E quindi staremo assolutamente a vedere, il Monza finora non ha praticamente concluso operazioni come un po' tutta quanta la Serie A. E in conclusione ci tengo anche a dire che si è detto molto contento e molto soddisfatto per esempio l'allenamento a porte aperte che solo pochi giorni fa qui a Monzello è stato svolto da un'iniziativa da parte della società. Ne arriveranno sicuramente delle altre. In conclusione quindi probabile formazione di Gregorio Teripali, difesa 3 composta da Caldirolla, Pablo Mari e Izzo. A centrocampo Pessina con Rovella, sulle fasce Birindelli da una parte e Carlos Augusto dall'altra. E in attacco ipotizzo un Ciurria Caprari con Petagna prima punta. Fatemi sapere la vostra opinione nei commenti, chi iscrivereste domani a Torino. Noi ci diamo appuntamento proprio domani perché anch'io farò parte della spedizione verso l'Allianz Stadium. Per ora da Monzello è tutto, ci vediamo al prossimo video.